Aspettando la diciassettesima giornata del campionato di B2, dopo aver riposato nello scorso fine settimana, la dirigenza del Nottolini Volley può sorridere per le convocazioni della selezione provinciale. Sono infatti tre le giocatrici del settore giovanile della squadra capannorese ad aver ricevuto la convocazione per l'amichevole. In programma giovedì alla palestra del Lido Volley alle 18.30. Si tratta delle giovanissime Greta Davini, Fabiana Chiericoni e Luisa Rolla, che danno lustra ad un settore giovanile sempre dei più attenti nel palcoscenico lucchese. Grande soddisfazione per la dirigenza, anche perché la società del presidente Baroni è, assieme all'Oienco, storica società berziliese che opera solo nel settore giovanile, la più rappresentata. Incassato il riconoscimento della TIPAV, la prima squadra prepara la prossima gara casalinga contro l'abordabile formazione del Gerotek Bologna, nella speranza di non incappare in un passo falso che in questa parte di stagione sarebbe davvero imperdonabile.